Ora scherzo, se vado a trattare la parte verde, come scherzo? Più di verde, sta qua, cazzo, calcio da sotto, ok? Uno, due, uno, due. Perché? Cazzo, quindi fare questo movimento e subito riattaccare, quindi uno, due, devo riattaccare. Quindi lascio uno, due. Quindi uno, con quindi una pinza che non va a colpire. L'altra volta lo facevo andare a palata, che lui mi spostava la mano e mi entravo dentro. Adesso me lo cerco io. Vado a caricare e vado a colpire. Uscite dalla traiettoria dell'altro figlio. Vediamo tutti. Allora, provate in sorte di cancio e subito.